Albano Carrisi, storica voce della musica italiana, ha recentemente espresso il proprio disappunto per non essere stato incluso nel cast di artisti in gara al Festival di Sanremo 2024. In un'intervista a The Breakfast Club su Radio Capro, il cantante non ha nascosto la sua delusione, ricordando la promessa ricevuta l'anno precedente da Amadeis, direttore artistico del Festival, che lo aveva invitato a tornare come ospite d'onore e successivamente come concorrente. Prima di procedere, apriamo un breve spazio di riflessione. Cosa pensate del ruolo delle promesse nel mondo dello spettacolo? E come dovrebbero essere gestite le aspettative degli artisti in contesti competitivi come Sanremo? La vostra opinione è preziosa, condividetela nei commenti. Albano non ha trascurato di menzionare un'altra questione a lui cara, la protesta degli agricoltori, pronti a far sentire la loro voce anche a Sanremo. Richiamando un episodio del 1984, quando Pippo Baudo invitò i metalmeccanici sul palco di Sanremo, Carrisi ha sottolineato l'importanza di dare spazio a temi sociali significativi nel contesto del festival, mettendo in luce le difficoltà che il settore agricolo sta affrontando. Con preoccupazione, il cantante ha poi riflettuto sul futuro dell'agricoltura e dell'alimentazione, criticando l'idea che nei prossimi vent'anni tutto possa diventare sintetico, incluso l'uso di farina di grillo, una prospettiva che vede come una negazione della storia e dell'identità umana. Albano ha rivolto un appello a Amadeus, chiedendo di far sì che il festival possa diventare un'occasione per una vittoria trasversale, ovvero la vittoria degli agricoltori, sottolineando il ruolo che Sanremo può giocare nella promozione di cause di rilevante importanza sociale. La posizione di Albano su Sanremo e la protesta degli agricoltori solleva questioni importanti sul ruolo degli eventi culturali e sul loro impatto sociale. Credete che Sanremo debba essere anche un palcoscenico per affrontare e dare visibilità a tematiche come quella sollevata dagli agricoltori? E quale dovrebbe essere il bilanciamento tra intrattenimento e impegno sociale in eventi di questa portata? La vostra partecipazione è fondamentale per arricchire questa conversazione.